Celebrate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli. Cantate, salmeggiate a Lui, meditate su tutte le sue meraviglie. Esultate per il suo santo nome, gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. La premessa di questo Salmo è la lode al Signore, celebrate il Signore e l'esortazione invocate il suo nome. Il pensiero è chiaro, lodando invocherò il Signore e sarò salvo. In questo Salmo la certezza è che il Signore esaudisce chi lo invoca, perché Dio vede che gli rende lode e vede chi gli rende la lode perché ne apprezza l'amore. Ma quando il Signore ha voluto che gli venisse mostrato l'amore più grande da parte di un servo fedele? L'ha fatto quando ha detto a Pietro, pasci le mie pecorelle. Per questo anche qui si legge, fate conoscere i suoi prodigi tra i popoli, cioè parlate delle opere di quello che il Signore fa nella vostra vita e quotidianamente. A chi sono rivolte queste parole? A ognuno di noi. Cantate e salmeggiate a Lui, cioè lodatelo con le parole, con le buone parole con le quali si narano tutte le sue meraviglie e grazie a questo si possono portare a compimento delle azioni con le quali possiamo lodare praticamente il suo nome. La lode con le parole è teoria, la lode con le azioni è pratica. Cioè il salmista ricorda che ci deve essere uno stretto legame tra la teoria e la pratica. Il cristiano deve essere coerente tra ciò che dice e ciò che fa. Esultate per il suo nome. Quando si esulta? Esultare significa provare una grande gioia, spesso accompagnate da manifestazioni esteriori. Quindi si esulta quando si prova una grande gioia e questa gioia la rendiamo manifesta esteriormente. Ecco perché dopo l'invito espresso dalla parola esultate il salmista giunge subito per il suo santo nome perché si esulti nel Signore. Perciò chi esulta non lo faccia per se stesso ma in onore del Signore perché ogni azione non venga fatta per essere vista o per mettersi in mostra agli occhi degli altri ma ogni azione serve per dare gloria a Dio. Questo significa esultate per il suo santo nome. Ed è per questo che in un altro salmo si legge l'anima mia si glorierà nel Signore. Ascoltino gli umili e se ne rallegrino. Il concetto è il cuore di coloro che cercano il Signore sia lieto. Ed è così che si rallegrano gli umili, i miti, i quali non guardano mai con invidia e malvagità coloro che compiono il bene. Tutto il salmo 105 sottolinea che attraverso le nostre parole e le nostre azioni si scelga Dio e lo si adori disinteressatamente, cioè non perché speriamo in qualche vantaggio ricompensa particolari e che le lodi, le invocazioni non vengano fatte per la nostra personale gloria ma agendo con fede per la gloria di Dio. Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Buona giornata. Grazie a tutti.